Tutelare l'ambiente e prendersene cura. Questo l'obiettivo del progetto avviato a Termoli adotta un albero che offre la possibilità a chi ha il pollice verde ma anche a chi vuole avvicinarsi alla natura di dare il proprio nome a una paulonia. Un arbusto in grado di assorbire una grande quantità di CO2 che detiene il record per la crescita più veloce al mondo, che produce un legno leggero e forte e che può essere impiegato nel fitorisanamento e nella bonifica di suoli inquinati. E in quello che è stato definito il bosco magico di Termoli incontrata a Colle della Torre c'è il primo impianto di Paolonia del Molise, un paesaggio meraviglioso che la responsabile Maria Carmela Scutti ha voluto far conoscere a tutti promuovendo qualche giorno fa online una sorta di lezione su come occuparsi dell'albero. Adottandone uno per tre anni si potrà far parte di questo scenario incantato e contribuire a lanciare un messaggio di sensibilizzazione in favore dell'ambiente. Tutte le persone che faranno richiesta al bosco magico, tutti i link li trovate sia sulla pagina Facebook, sia sui social, su internet, faranno richiesta. Cosa succederà? Che già nel giro di 15 giorni dal taglio tecnico che noi abbiamo fatto inizieranno ad arrivare dei polloni. Ed ecco qui che adesso arriva la persona che ha adottato l'albero e si prenderà cura di questo albero, ovvero sia andrà a spollonare questi polloni fino a lasciarne uno che diventerà proprio l'albero. Dopo un po' di tempo che può essere 15 giorni, 20 giorni, un metro perché dipende dalla temperatura esterna, usciranno fuori delle foglie con delle gemme ascellari e verranno tolte queste germe ascellari. Fino ad arrivare all'albero più o meno di un 6 metri, 5-6 dipende, verso fine estate e tutti coloro, ripeto, che hanno adottato l'albero si possono prendere cura dell'albero e usufruire di tanti eventi.